Ciao a tutti e benvenuti alla mia consueta appuntamento della mia trasmissione dove parlerò di problemi del lavoro e della situazione che vive oggi la classe dei più poveri purtroppo devo iniziare comunque con dei fatti tragici nel senso che le morti sul lavoro continuano ad imperversare e non c'erano assolutamente a diminuire dall'ultima volta che ci siamo dall'ultima trasmissione si sono avuti altri morti uno riporta il fatto quotidiano del 10 maggio a Monfalcone dice ieri mattina quindi il 9 maggio uno studente sedicenne impegnato in uno stage ha subito un infortunio alla mano il quale ne ha causato la semi-amputazione è stato operato ieri sera ma non è solo i frioli a piangere nel drammatico bilancio di ieri si conta anche un caso di decesso a Torino un altro a Corotone dove un uomo è ricoverato da un mese a seguito dell'infortunio su un cantiere stradale si è dovuto arrendere cioè è morto il ragazzo infortunato durante il tirocinio ha soltanto 16 anni frequenta un centro di formazione professionale l'istituto salesiano Berzi di Don Bosco circa 4 settimane fa aveva iniziato il suo stage alla MB di Pavia di Udine azienda che produce prodotti per la lavorazione dell'alluminio ma ieri mattina l'incidente lo ha costretto suo malgrado ad anticipare mentre stava utilizzando la fresa e si è semi-amputtato la mano questa è la situazione di come vengono sfruttati anche i ragazzi per l'alternanza scuola-lavoro ma non solo a gennaio-marzo 2018 il lavoro in Italia è costato la vita a 212 persone 22 in più rispetto ai primi tre mesi del 2017 a morire durante il tragitto tra casa e la fabbrica sono stati in 67 mentre quelli deceduti proprio in servizio sono stati 145 solo due in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente quando però la tragedia di Ricopiano e Campofelice hanno da sole provocato una grossa impennata alla statistica tra le esistenti sprezzate dal lavoro ci sono anche quelle di chi aveva ancora tutta una vita davanti nel primo trimestre 2018 sono morti 14 under 30 tre dei quali hanno addirittura meno di 20 anni parliamo sempre di statistiche sottostimate perché l'INAIL ovviamente non tiene in considerazione i lavoratori in nero e quelli che non sono assicurati presso l'ente pubblico l'osservatorio indipendente di Bologna cerca di quantificarle tutte i rada dell'associazione nata dieci anni fa dopo l'incidente della Tyson Group ne ricordate tutti di Torino segnalano in tutto tra gennaio e 2 aprile 450 casi 220 sul lavoro e 230 nel tragitto e questa è la pagina del giornale del Fatto Quotidiano del 10 maggio ma ieri proprio ieri in provincia di Padova c'è stato un ulteriore incidente vi leggo uno stralcio perché quattro operai di cui uno è morto sono in grave tre sono in grave condizioni quello che nessuno può immaginare succede poco prima delle otto di un turno qualunque durante il solito lavoro in una domenica quindi non solo da ricordare non solo le commesse o altri o gli infermieri lavorano di notte ma anche dove ci sono queste lavorazioni a ciclo continuo in una domenica come le altre ad acqua dalle acciaierie venete di Riviera Francia in zona industriale una una siviera piena di acciaio fuso si stacca dal caro ponte che dovrebbe guidarla fino agli stampi con l'equilibrio garantito da non bilanciere cade ed esplode davanti agli operai ce ne sono otto nei paraggi in quel momento due sono vicinissimi sono dipendenti dell'azienda e occupano le postazioni di controllo delle operazioni marian bratu 44 anni rumeno che abita a cadoneghe e sergio todita 39 anni moldavo che abita in città poco più distanti ci sono anche due operai della ayamatech una dita friulana che ha in appalto la manutenzione dell'impianto sono davide federic gerard di natale 39 anni origini francesi residente a santa maria di sala e simone vivian 34 anni nato a dolo residente a vigonovo i primi due vedono tutto la civiera che si stacca dalle guide e precipita per tre metri e come un secchio enorme e pesantissimo contiene 90 tonnellate di acciaio fuso a più di 1350 gradi ancora caldissimo perché è appena partito dal forno elettrico c'è il tempo di chiudere gli occhi dopo è come un'esplosione un'ondata di calore l'ondata di calore è violenta l'inferno restano a terra quei due e anche altri due più indietro esposti alla defraglazione e travolti tutte incenerite e corpi bruciati e la spalletta dice sono 29 gli incidenti mortali in Veneto nel 2018 un dato che porta la nostra regione in cima alle classifiche delle morti bianche perdere o rischiare di perdere la vita sul lavoro è una delle grandi tragedie contro cui da anni si battono le organizzazioni sindacali ma come si battono purtroppo le organizzazioni sindacali allora il 5 e 6 aprile si è tenuta a Roma l'assemblea dei 500 della FIOM dove si fra l'altro si discuteva anche dei problemi del lavoro degli incidenti sul lavoro ricordiamo che le tre organizzazioni sindacali hanno indetto anche come primo maggio il problema del lavoro ma in questa assemblea passa un ordine del giorno sulla sicurezza delle morti sul lavoro che è blanda alcuni delegati della FIOM non lo votano perché si chiedeva solo una generica mobilitazione e non uno sciopero generale questo gruppo della FIOM che ha presentato in questa assemblea 5 e 6 aprile a Roma un ordine del giorno alternativo diceva questo l'assemblea dei 500 delegati FIOM riuniti a Roma 5 e 6 aprile a fronte del costante aumento degli omicidi sul lavoro giunti da inizio anno alla già esorbitante cifra di 161 quindi ma questo è un comunicato o mai purtroppo vecchio chiede alla CGL oltre ad ogni altra iniziativa in programma sul tema di proclamare lo sciopero generale nazionale di tutte le categorie per porre fine a questo intollerabile stilicidio di lavoratori è necessario mettere in campo tutta la nostra forza e determinazione ecco a fronte anche degli incidenti di domenica tranne lo sciopero della fabbrica programmato anche perché comunque è sotto sequestro e la produzione non può ma procedere è stato programmato lo sciopero ma tutte le altre fabbriche tutti gli altri lavoratori non sono coinvolti in questo non vengono chiamati dalle organizzazioni sindacali ad una risposta forte ad una risposta dura nei confronti di queste situazioni all'interno del mondo del lavoro ricordiamo che se abbiamo avuto e se abbiamo delle della legislazione che in qualche modo parla di come come proteggersi dagli infortuni sul lavoro dagli incidenti è anche il frutto e soprattutto è frutto di una lotta passata negli anni 70 al 72 fino agli inizi dell'anni 80 ci facevano scioperi generali per difenderci noi ultimi noi che lavoriamo noi che produciamo la ricchezza per difendere i nostri compagni di classe per difendere i nostri appartenenti della nostra classe hanno i noi ultimi per difendersi perché non è possibile andare al lavoro alla mattina e non sapere se si ritorna alla sera un volantino di un'organizzazione comunista ha trovato in rete dice non si parli di fatalità non si parli di leggi male applicate non si parli di risorse insufficiente non si parli di errori umani o di morti bianche è tutto un modo di produzione che va buttato nella pattumiera della storia perché lì nei ritmi di lavoro nella corsa del profitto nei tagli alle spese improduttive nello sfruttamento quotidiano della forza lavoro lì sta la ragione da 300 anni a questa parte di quell'omicidio di massa che ha nome incidenti sul lavoro e che meglio sarebbe chiamare omicidio di lavoro gli operai i proletari devono tornare a difendere le proprie condizioni di vita e di lavoro con la lotta la lotta aperta e senza sconti insofferente ad ogni sé e ad ogni mamma soprattutto ad ogni limitazione di ogni condizionamento di ogni regolamentazione devono tornare a mobilitarsi e organizzarsi territorialmente insofferenti delle gabbie che i sindacati ufficiali e i partiti democratici costituiscono ogni giorno sulla pelle loro e delle loro famiglie la difesa è necessaria è urgente ma non basta ciò che deve tornare ad animare queste lotte indispensabili alla consapevolezza che o ci si prepara ad abbattere questo sistema fondato sul profitto sullo sfutamento oppure questa guerra quotidiana contro i lavoratori continuerà imperterrita a fare vittime e questo era lo spirito me lo posso dire io che ormai ho tanti anni di lavoro ma i primi anni di lavoro dove ero in fabbrica nel 79 si animava e ogni incidente era subito immediatamente si usciva dal posto di lavoro si scioperava e in più da dire l'aggravante è che l'incidente di domenica le organizzazioni sindacali il responsabile per la sicurezza aveva aveva fatto presente all'azienda di questi pericoli che almeno non ci fossero persone estrane quando si faceva determinate manovre ebbene di fronte a questo dove sono andate dalle parti delle organizzazioni sindacali lo sciopero la manifestazione del primo maggio riguardante la sicurezza sul lavoro assenti non ci sono più i vertici sindacali sono sempre più impegnati in riunioni di welfare in riunioni di premi di partecipazione riunioni a destra e a sinistra e i lavoratori vengono lasciati a se stessi ebbene noi dobbiamo riprendere ad organizzarsi perché non è vero non è consolanti dire beh per fortuna non mi è capitato a me o mi dispiace perché è capitato al mio collega perché domani potrei essere io e quindi se non veniamo organizzati come non verremo organizzati dalle nostre organizzazioni sindacali dobbiamo iniziare noi a fare rete a noi a parlare di queste cose perché altrimenti è un massacro certamente molto pesa il fatto della disoccupazione il fatto che stiamo vivendo una situazione di da una parte ricchezza abbondante perché l'affari e finanza del 12 marzo di quest'anno riporta i dati di Banca Italia dove dice che il 5% delle famiglie più ricche detiene il 40% della ricchezza del patrimonio in media pari a 1,3 milioni di euro al 30% delle famiglie più povere invece l'1% della ricchezza e ora abbiamo il 40% da una parte il 5% da una parte che detiene il 40% mentre il 30% quindi la stragrande maggioranza delle famiglie più povere invece detiene l'1% della ricchezza e sono queste famiglie povere sono i poveri che poi vanno a morire sul posto di lavoro vanno a morire sul lavoro sono chiamati a fare i sacrifici sono chiamati a salvare l'Italia mentre queste questo nucleo questo pugno del 5% si diventa sempre più ricco mentre la povertà sale e il giornale porta ancora questo il 10 maggio sul manifesto riportava che sono 5 milioni stiamo parlando sempre in Italia 5 milioni in povertà assoluta i cittadini italiani in povertà assoluta continuano ad aumentare sono 5 milioni secondo l'ultima rilevanza rilevazione Istat quindi questa è la situazione ma non possiamo pensare che qualcuno ci organizzi o qualcuno venga a difenderci se non riusciamo noi a fare rete a farci sentire a dire basta a questa situazione certamente non verranno a farlo quelle 5% di famiglie italiane che detengono il 40% della ricchezza cambiando discorso portiamoci un po' su un altro dramma che colpisce sempre i poveri e gli ultimi è il dramma delle guerre su questo vorrei citare un po' le teleconferenze che si fanno fa un gruppo N più 1 ogni martedì sera ci si può collegare al loro sito o tramite Skype ed ascoltare questa teleconferenza e sentire anche delle cose interessanti ho trovato una cosa molto interessante a proposito della guerra e sembra di essere sembra essere attuali loro in questa teleconferenza riprendono un testo uscito nel 1967 che fece scalpore in quel momento pensò che fosse stato redato dall'economista John Kenneth Galbraith il libro fu curato dal giornalista Leonard Levin e nella prefazione viene presentato come un documento segreto commissionato dal governo americano con lo scopo di valutare la possibilità o meno di arrivare a una pace globale studiando nei rischi e benefici quindi il gruppo Cleoredasse composto da studiosi e ricercatori consegnò all'esecutivo il rapporto che fu detto di Iron Mountain per il nome della località in cui si trovava il rifugio segreto presso lo stato di New York in cui si sarebbero gli uniti gli scienziati e su questo io vi inviterei a andare anche su internet a cercarlo perché è interessante se voi digitate su google il rapporto segreto di Iron Mountain c'è una recensione di questo libro che poi potete anche leggervelo e inizia così secondo me è molto interessante la recensione che dice se è autentico è terribile se è un falso è un incubo in ogni caso è vero allora cosa dice cosa c'è di vero nel rapporto segreto da Iron Mountain dice quello che fa la recensione il rapporto segreto da Iron Mountain è sconvolgente il documento auspica in uno scenario apocalittico un controllo sociale con avanzate tecnologie e strumentalizzazione dei mass media per arrivare a pianificare una serie di spaventose minacce tra le quali quella di inquinare deliberatamente aria e acqua di riportare la schiavitù di controllare con dei computer per la procreazione e di reintrodurre nella società l'omicidio rituale vedi Saddam Hussein in Gaddafi eccetera il rapporto Iron Mountain continua l'articolista è un testo pubblicato nel 1967 il cui titolo completo è Report from Iron Mountain on Possibili e Desiderabili of Peace il libro fu curato da un giornalista indipendente Leonardo Levin che scrisse la preferazione dove è spiegato che il testo è un documento governativo ultra segreto i cui presupposti risalgono alla presidenza Kennedy Levin ci informa che nel 1965 fu formato un gruppo di studio speciale al quale l'esecutivo statunitense commissionò un'inchiesta sulla reale possibilità di una pace mondiale e sull'effettiva utilità di tale condizione cioè la condizione che ci sia la pace dappertutto il gruppo composto da studiosi ricercatori di alto livello accademico dopo mesi di lavoro consegnò al governo il rapporto che fu detto da Iron Mountain il nome delle località un rifugio anti-atomico segreto presso New York in cui si erano incontrati gli scienziati le conclusioni cui il gruppo pervenne sono agghiaccianti per la stessa sopravvivenza delle forme statali per la loro conservazione e rafforzamento per l'economia mondiale attenzione la pace non è desiderabile ed è al contrario necessaria una situazione di conflitto costante in mancanza del quale è necessario ricorrere a una serie di surrogati della guerra la guerra è dice il rapporto la principale delle forme strutturali della società essa continua il rapporto rappresenta nella macchina dell'economia una specie di volano che con la sua inerzia controbilancia i progressi della produzione cioè tradotto c'è la produzione che si produce sempre di più attraverso il progresso dell'automazione eccetera e c'è bisogno della guerra che controbilancia quindi distrugge quello che si va a creare essa garantisce il potere politico ad ogni politico poiché dice il rapporto l'autorità di base di uno stato cui cittadini risiede nel suo potere militare dunque che cosa fare come rispondere alle masse che istitivamente anelano alla pace il gruppo ha detto varie soluzioni ad esempio si può imporre un'economia di guerra ma con altri fini un altro espediente è di formidabile attualità inventare nemici sostitutivi creare cioè un avversario che non esiste ma del quale si dichiara di doversi difendere scrive il gruppo di studiosi le minacce fictizie dovrebbero non solo apparire avere ma essere credute tali con incrollabile convinzione e tale convincimento dovrebbe essere rafforzato dal sacrificio di esistenze umane in numero non insignificante cioè parecchie è evidente una spaventosa anticipazione di quanto accade l'11 settembre 2001 migliaia di innocenti furono massacati per creare la certezza che incombe della minaccia alias Osama Bin Laden oltre a proporre la carta del terrorismo di stato attribuito però a fantomatiche organizzazioni fondamentaliste musulmane il documento individua altri due strumenti per diffondere paura ed angoscia fra le popolazioni la minaccia di un'invasione aliena e l'inquinamento deliberato dell'ambiente la contaminazione degli ecosistemi con sostanze rilascianti nella biosfera nell'ambito di un'operazione ad hoc e la punta di diamante del documento non solo perché causa inquietudine nelle persone ma anche poiché esplica la diabolica volontà di distruggere il pianeta quindi prosegue il rapporto l'idea del rapport scrive Levin risaliva addirittura nel 61 all'interno dell'amministrazione Kennedy e dei suoi nuovi uomini nuovi McCamara Bundy e Rush solo nel 65 il progetto fu realizzato con la formazione di un gruppo di studio generale speciale cui il governo USA commissionò uno studio sulla reale possibilità di una pace mondiale e sulla effettiva utilità di tale condizione in poche parole il governo statunitense chiese a questo gruppo di studio speciale se fosse mai possibile una pace perenne mondiale e in caso positivo se questo fosse l'obiettivo da raggiungere e mantenere il gruppo formato da studiosi ricercatori di alto livello accademico storici sociologi economisti scienziati perfino un astronomo dopo mesi di lavoro consegnò al governo il rapporto che fu detto da Iron Mountain nel nome della località le conclusioni del gruppo dice che pervenne sulla ghiaccianti per la stessa sopravvivenza delle forme statali per la loro conservazione e rafforzamento per l'economia mondiale la pace non è desiderabile ed è al contrario necessaria una condizione di guerra costante in mancanza del quale occorre realizzare una serie di surrogati della guerra e qui poi continua potete leggerlo perché è interessante e di attualità quello che viene detto se che sia o meno una una fec come si dice oggi no new è il problema è che è molto molto di di attualità continuando invece con con continuando invece con la teleconferenza c'è da dire che si continua a si continua con questa parlare di questo sistema di questo libro che è molto interessante e i compagni continuano così due sono i testi essenziali per capire l'evoluzione della guerra dall'antichità ai nostri giorni uno è l'arte della guerra di Sun Tzu e l'altro famoso della guerra di von Clausewitz il primo cioè quello di Sun Tzu è del quarto quinto secolo avanti cristo e rappresenta la guerra come una partita a scacchi e spiega come raggiungere certi risultati sfruttando le debolezze dell'avversario il secondo invece von Clausewitz descrive il conflitto nel periodo napoleonico spietato duraturo e assoluto nella nostra epoca quando gli stati riescono a far combattere le popolazioni al posto degli eserciti e quello che succede in Siria per esempio si realizza uno degli insegnamenti più noti di Sun Tzu sconfiggere il nemico senza combattere e la massima abilità finita l'era dei fronti imperialisti netti come quelli visti durante la seconda guerra mondiale e nella successiva guerra fredda e scomparse le trincee le guerre come le guerre corre su un fronte globale come d'altronde si addice a un capitalismo giunto nella sua fase suprema la guerra moderna è sia fisica che virtuale e viene dall'informazione recepita ed elaborata in tempo reale e dall'uso delle partigianerie la nostra corrente cioè la corrente del cui perviene N più 1 che risale dalla fondazione del partito comunista d'italia del 21 poi che faceva capo da Amedeo Bordiga che poi continuò dopo il secondo conflitto mondiale quindi la nostra corrente da quella corrente astensionista da quella corrente del 45 con battaglia comunista e avanti fino al programma comunista nell'articolo l'imperialismo delle portaeree del 57 affermò che la proiezione di potenza degli USA riguardava soprattutto i mari e le oceani oggi possiamo aggiungere che diventa essenziale il controllo della rete internet alcuni studi di borghesi sostengono almeno dall'attacco dell'11 settembre 2001 delle torte di giumelle che si deve parlare di guerra civile planetaria un diario di guerra vedi il libro di Mark e da ultimo si è aggiunto anche Papa Francesco con la formula della terza guerra mondiale combattuta a pezzi tuttavia secondo alcuni gruppi che si rifanno alla sinistra si starebbe infatti preparando l'esplosione della terza guerra mondiale quando invece è palese che la guerra è già in corso generalizzata e devastante se si guardano i video e le foto fatte con i droni su città come Mosul Aleppo o Raqqa si capisce bene che esse non sono state distrutte da bombardamenti aerei ma erose da milioni di proiettili che hanno sbriciolato le strutture abitative e le vie di comunicazione la nostra corrente quindi e loro ha sostenuto in più occasioni che 1 il prossimo conflitto mondiale sarebbe stato la somma di piccole guerre rocali generalizzate 2 attenzione se passa la guerra non passa la rivoluzione non c'è più nessun contatto possibile tra soldati e quindi nessuna possibile fraternizzazione il fantaccino terrestre si muove nei moderni teatri di guerra telecomandando da centri che si trovano all'altra parte del pianeta 3 il sistema crollerà all'interno e solo da questo crollo potrà nascere una nuova forma sociale ogni tipo di gradualismo e quindi puro riformismo perché saltinare all'intero assetto imperialistico deve succedere qualcosa di gigantesco a livello sociale non bastano il collasso della Siria della Libia dell'Oliemen il semicollasso dell'Iran dell'Egitto e le situazioni out of control di alcune aree dell'Africa subsahariana e del Sud America le rivoluzioni avvengono per eccesso di malessere gli uomini hanno dimostrato di essere in grado di patire sofferenze terribili senza ribellarsi perché la situazione attuale dei Siribalti devono manifestarsi condizioni economico sociale multiple e sicronizzate non a caso Engels descrive la rivoluzione come un fatto fisico terremoto vulcano tsunami e solo secondariamente come uno scontro tra ideologie politiche si può ipotizzare una serie di rotture nella catena di relazioni di comando capitalistiche a causa del quale tutto il mondo andrebbe fuori controllo portando allo sviluppo di una opposizione generalizzata non tanto a quel governo ma alla forma sociale esistente un'opposizione che spinga verso nuovi rapporti tra gli uomini e ormai si è fatto tardi e vi chiedo di andare a leggerlo questa teleconferenza nel sito di N più 1 che è www.quinterna.com vi consiglio o vi invito a scrivermi sugli argomenti che mi piacerebbe che fossero trattati che dicessi la mia opinione sui temi che voi illustrate e con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima trasmissione ciao a tutti ciao a tutti Grazie.